Continua senza sosta l'attività di collaborazione della marineria di Biceglie con il centro recupero tartarughe marine del WWF di Molfetta. Si rivela sempre più importante la collaborazione con i pescatori e la rete di protezione si estende anche alla città di Trani e di Biceglie. Continua senza sosta l'attività di collaborazione della marineria di Biceglie con il centro recupero tartarughe marine del WWF di Barletta. Nei giorni scorsi una nuova imbarcazione, il Flipper di Giuseppe Anacondia, si è aggiunto al gruppo dei motopescherecci che collaborano al progetto tartarughe del WWF. Sono ben 20 le caretta a caretta recuperate dall'inizio di dicembre sottoposte agli esami clinici da parte del professor Antonio Di Bello del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari. Altrettanto numerose risultano essere le liberazioni effettuate a Biceglie grazie alla disponibilità del circolo della vela. recentemente a Trani che ha visto oltre alla presenza di molti diportisti e gozzi di pescatori anche il sindaco di Trani Bottaro, nonché un ospite di eccezione, l'imprenditore Pasquale Natuzzi che ha voluto seguire con la sua famiglia tutte le fasi di liberazione avvenute a largo di Trani. Per Pasquale Salvemini, responsabile del centro Molfettese, è stata fondamentale l'incontro con i pescatori tranesi che ha consentito di fissare le basi per una proficua collaborazione. Salvemini ringrazia inoltre la catena dei supermercati Doc e Famila per aver fornito gratuitamente al centro recupero tartarughe marine del WWF un importante quantitativo di sale utilizzato per la salinizzazione dell'acqua delle vasche. Piacevole intermezzo sul mare il giorno di Natale, complice alla splendida giornata di sole, i volontari del centro recupero tartarughe e i soci del circolo della vela di Biceglie hanno caricato a bordo delle loro imbarcazioni e liberato in mare cinque esemplari di caretta caretta. Da parte sua il sindaco Spina ha annunciato che la sua amministrazione ha intenzione di creare a Biceglie una struttura permanente per la cura delle tartarughe più in generale per attività di tutela e promozione del nostro ambiente marino.